E questa sera si colora di bianco azzurro perché apriremo le porte della casa di un altro grande campione, si tratta di Alexandre Ghiotti. Amici del Calcio a 5 Stelle, questa sera dunque in casa di un altro grande campione del mondo del futsal. Questa sera però purtroppo non sentiremo ai nostri microfoni il grande Alexandre Ghiotti perché come tutti sapete il Pescara Calcio a 5 è in silenzio stampa, per cui daremo la parola soltanto, esclusivamente alla moglie, la fantastica moglie di Alexandre. Carolina, innanzitutto ti ringrazio per averci accolto in casa tua e siamo particolarmente curiosi, vogliamo sapere come vi siete conosciuti. Ci siamo conosciuti in un locale nella nostra città, c'era una festa di un'antica scuola mia e poi da lì ci siamo scambiati telefoni e è andata così. E' andata così insomma, 8 anni, quindi un matrimonio a duratura, soprattutto avete un bambino bellissimo. Grazie, grazie. Ed eccolo qui il piccolo campione di casa Ghiotti. Allora, piccolino, cos'è che deve fare papà in campo? Deve giocare parole. E non deve mollare? Mai. Mi fai un bel saluto a tutti gli amici che ci seguono da casa? Sì, ciao. Delizia, delizia, assim você me mata. Ai, se eu ti prego, ai, ai, se eu ti prego, eh. Va! Ma com'è Alexandre in veste di marito? E' un bravo marito, sempre molto attenzioso sia con me che con il nostro figlio. E' un po' è come a casa, è come si vede in campo. Lotta, vuole sempre andare avanti, sia nelle cose personali che professionali. Se dovessi dare un giudizio invece a lui come calciatore in campo, ti emoziona particolarmente quando vai al palarigopiano, penso? Sì, mi emoziona. Poi c'è sempre quella lotta per il risultato, anche le altre mogli, ti fiamo sempre insieme. Alla fine, quando va bene ci solleviamo, quando va un po' come non aspettavamo, però vediamo che sempre combattono, è quello che vogliamo vedere alla fine. Ecco, ti piace particolarmente stare qui a Pescara? Sì, mi piace, è una bellissima città, la conoscevamo già perché avevamo già abitato qui per 6-7 anni. Poi c'è il mare che a me piace tantissimo, pure quando abitavo a Napoli c'era il mare, allora se devo abitare in una città che non c'è il mare, mi manca tantissimo. Ecco, ti piace vivere qui, ma cos'è che ti manca in particolar modo del Brasile? Del Brasile quello che mi manca di più alla fine sono i familiari, pure se abbiamo anche degli amici qua, la famiglia è quello che manca alla fine. Un piccolo pentem e pure un piccolo eloi, che c'è un eloi che fa tutto, e poi un camion. La letterina a Babbo Natale, lo qua c'è il ragazzino. Ciao a tutti e l'olio che c'è il ragazzino di cinque stelle. Ai, ai, se io ti prego, delicia, delicia.